Gran pareggio della Torres che al Vannisanna di Sassari ferma sull'1-1 la capolista Arzachena nella 29esima giornata del Gironi G del campionato di Serie D. Con questo risultato i rosso-blu proseguono il loro inseguimento alla zona salvezza mentre gli smeraldini si vedono agganciare in vetta da Rieti che sbanca all'inglese il campo del Flaminia. Ospiti subito in vantaggio al quarto d'ora di gioco con Branichi che trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di Fai e su Andrea Sanna. Ma è lo stesso Fai al 28esimo a pareggiare i conti con l'incornata vincente sul cross di Mannoni dalla destra. Nella ripresa girandola di cambi l'occasione più ghiotta è per la Torres con il neonato Mucili che sfiora il palo con un bel destro.